Venerdì 18 gennaio alle 20 e 15 si è tenuta a Flero al teatro comunale Le Muse una serata dal titolo Dono da me a te. L'evento è stato organizzato da Avis, Aido e Ail in collaborazione con Promobol e con il patrocinio del comune di Flero. La serata è stata presenziata dalle ragazze della Promobol insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni organizzatrici che hanno portato storie e testimonianze importanti sulla donazione di sangue, organi e tessuti. La platea ha potuto assistere ai racconti in prima persona di chi ha ricevuto le donazioni potendo così comprendere quanto un gesto così disinteressato possa fare bene a chi ne ha bisogno.